Quattro pappine come pronosticato dal nostro Maurizio che disse attenzione che quando si incontra poi una squadra di calcio sono membri senza zucchero, o sbaglio? Non è pronosticato, Leo abbiamo detto che chiaramente la prestazione col Folligno mi ha lasciato molti dubbi, molti dubbi perché la fase difensiva chiaramente tutte le volte in cui la squadra Maranto veniva aggredita presentava dei lacune, domenica abbiamo giocato con una buona squadra perché Follogna vorrà una buona squadra, un allenatore che s'ha fatto suo bonura che secondo me avrà anche un futuro perché è un allenatore molto miticoloso molto attento anche a mettere in campo la squadra, a vedere, a sapere quali sono i punti di forza i punti debiti dell'avversario, l'Arezzo domenica ha avuto anche l'approccio sbagliato ogni partita ha la sua storia, sicuramente non era come ha detto il Misti non erano dei fenomeni prima, neanche dei brocchi ora però dei dubbi erano già velati, c'erano, c'erano perché abbiamo visto più volte che tutte le volte in cui la squadra Maranto viene aggredita a centrocampo va in difficoltà e domenica il Follogna Gavorrano ha attaccato i nostri ha messo in difficoltà i nostri punti di forza che sono chiaramente a Liperta e Strambelli e chiaramente ha puntato a giocare sui nostri punti deboli una partita le ho giocata male, persa anche malamente io se devo fare sempre delle analisi dico che chiaramente questo centrocampo messo in questo modo dà delle grosse problematiche e soprattutto giocare con due punti che sono due punti, sono Leo, due Marcantonio perché Sparacelle e Foggia sono un metro e 90, due e due molto bravi chiaramente un metro e 90 in due? no, 380 in due un 90 per uno è chiaro che nei momenti in cui giochiamo nei campi asciutti come ora, forse la scelta di far giocare anche la punta veloce come Muzzi, come Cutoro, Cutoro Domenico è entrato poi se è infortunato e invece questi sono giocatori sicuramente che andranno più diciamo, sono subavvantaggiati con i campi pesanti questa è una delle mosse e forse anche con giocare una punta sola con rinforzo in mezzo al campo chiaramente l'Arezzo, il dubbio ce l'avevo, ce l'avevano tutti al momento che abbiamo trovato al cospetto di una compagine di livello siamo andati in difficoltà il Misti doveva trovare chiaramente contro misure allora, tu hai già fatto colazione stamani? sì allora, quando vieni a fare l'analisi? tu ho detto otto volte, vieni a digiuno con la ricetta o devo venire con la ricetta ora domenica abbiamo una partita con Cascina è una partita importante bisogna vincere chiaramente ma oltre che la vittoria, secondo me, bisogna dimostrare anche davvero un gioco all'altezza sappiamo poi che l'Arezzo viene aspettata chiaramente tutte le volte che una squadra gioca contro l'Arezzo è evidente che gioca alla morte perché questo è normale perché l'Arezzo è la squadra favorita del campionato quindi vediamo di approcciare anche da un punto di vista tattico e mentale la partita in modo giusto allora, attenzione quando si dice vincere perché ha pigliato il fascista ci vuole poco oggi, capito? superare gli avversari ora sì vediamo di superare gli avversari senza mettere la freccia senza mettere la freccia ma se si torna in C o no? eh, per tornare in C bisogna mettere a posto alcune cose bisogna vincere a Dio coglioni che teorie grazie Maurizio Polverini sei bravissimo prego